Cosa sono queste confidenze? Il tedesco? Sulle mani dal Gisa! E' il momento dell'ospito speciale! Da questo momento... ERIK! ... Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. , grazie a tutti. , grazie a tutti. , 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 ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,, ,, ,, ,,, 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 ,, ,,, 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 ,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,, ,,, ,,, ,,, ,, ,,, ,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,,,,,,,,,,, Grazie a tutti. 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 e a tutti. a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.